Il racconto di Caino Abele, tra i più noti archetipi della cultura occidentale, è certamente un'indagine sull'origine dell'aggressività umana, ma può essere anche interpretato come una riflessione sul tema ancestrale dell'inizio stesso. Ogni origine, si sa, dipende da ciò che lo precede, così come ogni azione è sempre una reazione. La vicenda, come noto, si svolge nel quarto capitolo della Genesi, ed ha una conclusione che tutti conosciamo benissimo. Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele, e lo uccise. I motivi dell'assassinio sono stabiliti una volta per tutte dal tribunale della storia, come si evince dai versi 3 e 4 dello stesso capitolo. Trascorso dal tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo greggio e loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Caino era, dunque, mosso da sentimenti di invidia e gelosia nei confronti del fratello minore. Non a caso, in ebraico, la lingua biblica, invidia e gelosia si indicano con la stessa parola, Cain, che si costruisce sullo stesso etimo di Caino. C'è però una parte dei commentatori che problematizza la vicenda. Anzitutto riflettono sulla diversa condizione di partenza dei due fratelli. Come tutti i primogeniti, Caino ha dovuto sopportare il carico delle aspettative genitoriali, che hanno proiettato su di lui i propri affetti e aspettative. La Bibbia lo fa benemergere in Genesi 4, 1, con la frase pronunciata da Eva dopo aver partorito. Ho acquistato un uomo col favore dell'Eterno. Si è portati a pensare che la mamma ringrazia il Signore per aver avuto un figlio, ma altri, in modo meno superficiale, identificano quell'uomo con Adamo. La nascita del figlio lega definitivamente a sé il compagno, scongiurando il pericolo dell'abbandono. Va sempre ricordato che la coppia era stata messa a dura prova dall'episodio del frutto proibito, dove uomo, donna e serpente si erano scaricati reciprocamente alla responsabilità. Insomma, Adamo ed Eva erano coniugi separati in casa. A conferma di tutto ciò, viene fatto notare come il verbo che descrive l'atto che nomina Caino è declinato al femminile, come se il nome fosse stato scelto solo dalla madre. Jacques Lacan direbbe che Caino è vittima di un desiderio incestuoso da parte della madre. Il figlio dovrà quindi sacrificare i suoi desideri e le sue aspettative a questo vincolo d'amore materno, cosa che non avverrà per il secondo genito Abele, investito da un amore più libero e meno condizionante. In secondo luogo, il commento si chiede che cosa abbia fatto Abele per diminuire l'aggressività del fratello. Risposta? Nulla. Abele viene definito il muto, proprio perché in tutto il capitolo quarto non si registra una sola sua parola. Terzo punto, ma è davvero possibile definire Caino un assassino? Come poteva voler uccidere se nessuno ancora conosceva la morte? Se si nota bene il testo ebraico la parola sangue pronunciata dal Signore nel verso 10. Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. È declinata al plurale, i sangui, come se nella sua furia aggressiva Caino avesse colpito a caso il fratello. Se avesse mirato la sua morte avrebbe colpito un organo vitale. Insomma, per tutto questo e altro ancora, il commentatore contemporaneo John Byron, da non confondere con Lord George Byron, che a Caino ha dedicato un memorabile dramma teatrale, ha parlato di una campagna di diffamazione nell'ambito dell'esegesi biblica nei confronti della figura di Caino. Difficile a questo punto considerare l'azione di Caino senza il contesto che la precede. Piuttosto, appare come una reazione al comportamento del fratello, che a sua volta dipende da quello dei genitori, e così all'infinito. Ogni azione è una reazione, non esiste un'origine unica. L'origine è sempre duale. In principio fu la relazione, questo ci insegna la storia. Grazie a tutti.